eh beh e se li prendi in mare queste cazzo delle cose li sacca a poco eh 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 la che piattava in gunisi eh 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 ma no hai detto la tua va molto a basso del regime di giri quella non c'era non c'era ma è in giro ma è in giro Grazie